Saluto a tutti, io sono un imprenditore, un imprenditore che è riuscito a pochi chilometri da Treviso a creare una multinazionale. Siamo partiti in quattro persone in un garage. Oggi una delle nostre aziende sta portando lo stile italiano in cento paesi del mondo e siamo in 30.000 addetti. Tutto creato in vent'anni. Bene, perché io ho accettato di venire qui a parlare con voi? Perché io penso che casi del genere in Italia ce ne possano nascere tantissimi. Perché tutto è basato sulla creatività. Noi italiani abbiamo la creatività nel nostro sangue. Solo che da una parte abbiamo la cultura di creare, dall'altra ci manca la cultura di gestire la nostra cultura. E non è un gioco di parole questo. Parlando dell'amministrazione pubblica e del vostro lavoro, c'è una riflessione da fare. Molto spesso all'estero mi chiedono i miei colleghi, ma perché quando veniamo in Italia l'amministrazione locale è a nostra disposizione. Ci aiuta. Ci aiuta ad aprire business, ad aprire aziende. E quando noi ci spostiamo nel settore più avanti, politico, non riusciamo a dialogare. Provate a pensarci. Questo è un elogio per voi, ma dall'altra parte è un punto di riflessione perché l'Italia, se vuole crescere, deve unificarsi. E tutte quelle cose che abbiamo sentito da voi, dal vostro Presidente, deve essere per tutto il nostro Paese. Chi è che può dialogare però in questa fase? Non sicuramente il singolo italiano, il singolo soggetto. Ma io pregherei ai sindaci, oltre che di apprezzare tutto il lavoro che stanno facendo, che lo stanno facendo in maniera egresa, ecco, di riuscire a pressare il governo, a pressare le istituzioni pubbliche e nazionali per arrivare un giorno, magari, a sciogliere tutti questi nodi che questo Paese ha. Altrimenti non cresceremo mai. E abbiamo dimostrato tramite voi che sappiamo gestire le cose, che siamo bravi a gestire le amministrazioni locali. Quindi non è vero che noi italiani non siamo capaci di gestire il Paese, ma c'è qualcosa, c'è un muro, c'è quasi una barriera davanti di noi. E quindi io penso che i sindaci, che naturalmente molti di questi sono legati a correnti politiche, devono alzare i pugni, come ho sentito prima dal vostro Presidente, perché questa è la strada per poter poi fare le riforme. Altrimenti continuiamo a dirci tutte le cose che non vanno in questo Paese, ma saranno sempre irrisolte. Quindi, quando parliamo di giovani, ci viene un'altra riflessione. Perché i giovani oggi si allontanano dalla politica? Perché, quando andiamo a votare, la grande maggioranza dell'elettorato non si presenta. Perché esiste appunto questo disappunto rispetto al Paese, che sicuramente non è la responsabilità dei sindaci. Perché i sindaci sono bravi. Perché sono bravi? Perché hanno l'umiltà di parlare con la gente. Perché hanno la capacità di intuire i bisogni reali della gente. E questi sono i bisogni reali che il Paese deve risolvere. È vero che il Paese ha dei problemi internazionali, di cui non può sottrarsi, ma i politici devono vivere come i sindaci la realtà di questo Paese. Altrimenti continuiamo a vivere su un'Italia divisa, divisa dal nord, divisa dal sud. Io vi do un'esperienza da imprenditore che ci sono molti ragazzi del sud che lavorano da noi, che sono bravissimi, quanto quelli del nord, quanto gli stranieri. E questo ci fa riflettere, perché non è vero che noi italiani non siamo capaci di gestire. Quindi io mi limito a questo mio intervento di pressare un po' i sindaci, che sicuramente sono a contatto con questo mondo. E fin tanto che non riusciremo a battere questo muro, purtroppo staremo sempre qui a sognare. A sognare due classi, una classe perfetta, che è la vostra, gli amministratori, i sindaci, e una classe che non conosce la realtà del Paese. Vedete, i giovani oggi stanno trasformando la società verso un'economia che sarà ancora diversa nei prossimi anni. I giovani sono meno interessati alla politica, sono più interessati a una cultura che è internazionale, per imparare le lingue. I giovani sono interessati alla cultura anche. E dobbiamo sapere che questo Paese avrà un futuro solo se avrà cultura. Perché la trasformazione del prodotto in questo Paese sarà sempre più difficile. Noi per tanti anni abbiamo esportato braccia da questo Paese, poi abbiamo esportato fabbriche di questo Paese. Oggi noi dobbiamo esportare progetti. E dove nascono i progetti? Dalla creatività, da qualcosa che ognuno di noi sa fare e che poi sa appropriarselo, tramite la proprietà intellettuale, la collaborazione con l'università. E così in questa visione noi trasformiamo le idee in dei progetti, trastiamo delle case e aspettiamo magari gli stranieri che vengano in Italia non solo per comprare scarpe e camicie, ma per comprare progetti. Questa è la visione moderna di questo Paese. Bene, vi ringrazio e vi auguro fortuna a voi. Grazie.